Agenzia Nazionale per i Giovani Dal 15 al 19 dicembre a Napoli l'Agenzia Nazionale per i Giovani organizza un seminario per approfondire una tematica molto importante per il suo ambito di azione, il riconoscimento e la validazione delle competenze acquisite nell'ambito dell'apprendimento non formale. La NFL, Apprendimento Non Formale, è una forma di educazione su base volontaria che fornisce opportunità di acquisizione di competenze, skill e abilità al di fuori degli usuali sistemi di istruzione e formazione e occasioni in cui la formazione e l'apprendimento non sono necessariamente le principali attività. Queste attività, infatti, non sono strutturate secondo ritmi e convenzioni docente e discente o da curriculum prestabiliti, ma basate su target specifici. L'educazione non formale, che si può sviluppare all'interno e all'esterno di istituzioni educative e si rivolge a persone di tutte le età, è stato oggetto anche di una raccomandazione del Consiglio d'Europa del 20 dicembre 2012, la 2012 C39801, che approfondisce proprio la validazione dell'apprendimento non formale ed informale. Essa invita gli Stati membri a individuare, entro il 2018, sistemi e contesti per il riconoscimento di quanto appreso al di fuori dell'educazione formale, come ad esempio le esperienze di nobilità, al fine di poter valorizzare tale competenze e facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro e l'avvio di un percorso professionale completo. In Italia, con il Decreto Legge numero 13.310, viene data attuazione ad una delle deleghe previste dalla riforma del lavoro, e precisamente quella in materia di certificazione delle competenze, al fine di creare un sistema volto a valorizzare l'apprendimento permanente, deferendo la competenza per l'individuazione e la validazione dell'apprendimento non formale e informale alle regioni, con riferimento al Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze. Apprendimento non formale, gli obiettivi che ci poniamo. Perché venga riconosciuto da standard di qualità comuni ed efficaci, perché vi sia una maggiore considerazione delle competenze, per una più proficua complementarietà tra educazione formale e non formale, per una maggiore chiarezza sui metodi di identificazione e di valutazione dei risultati, diamo ai nostri valori comuni un valore comune. Grazie per la visione!